Non una grande partita. Fino a che noi non abbiamo sofferto il primo gol su rigore, stavamo giocando bene, tenevamo la palla abbastanza bene. Dopo lì il Parma ha cominciato a credere di più e sono saliti. Ci fa piacere perché, per esempio, partite come questa, l'anno scorso, negli anni precedenti, sicuramente prendevamo un gol, era pareggio, lo perdevamo e quest'anno stiamo dimostrando che anche quando non vanno a testa il risultato ci porta avanti. Era molto importante vincere la partita di oggi. Sì, perché due partite in casa non potevamo fare i nostri compiti, non possiamo lasciare il gruppo davanti, che hanno tutti vinto, staccare e per questo dovevamo per forza vincere. Le punti ancora più importanti perché le altre concorrenti hanno vinto tutte. È sicuro che appena detto che non possiamo lasciare che quelli davanti si stacchino e per questo sono importantissimi questi tre punti che abbiamo portato a casa oggi e dobbiamo continuare in questa strada fino in fondo. Quante partite con la maglia della Lazio? Un traguardo importante. È importante sicuramente, sembra che sono arrivato ieri, due anni, quattro mesi penso, e già arrivare a questo numero è senza dubbio una soddisfazione grandissima. Io ringrazio la società e i ragazzi che mi hanno accolto benissimo, principalmente i tifosi che mi hanno fatto sentire importante. Io ho sempre detto che sono molto felice qua e voglio fare qualcosa di importante con questa maglia e questo è il mio obiettivo. Si parla spesso del futuro possibile di nuovo di un contratto, come state parlando? No, fino adesso non c'è avuto occasione di parlare su questo. La Corsa Champions quest'anno è più difficile, ci sono sei squadre che stanno correndo contro. Si è vero, quest'anno ci sono tante squadre che stanno correndo, non solo queste, però anche quelle che vengono un po' indietro sono fortissime, che ci mettono in difficoltà, come abbiamo visto oggi il Parma che non sta proprio lì, però è una grande squadra che senza dubbio toglierà qualche punto. di queste squadre che stanno facendo la rincorsa. Quindi tu ti aspetti che qualcuno ancora possa rientrare, nonostante il gruppo di testa sembri essere un po' staccato dalle altre? Sì, perché abbiamo visto il risultato, sono venuto qui, abbiamo vinto 3-0, oggi 4-1, sembrava che guardando la partita non farà bene, però è tutto difficile, la squadra è molto competitiva e per questo penso che qualcuno possa rientrare. Senti, Felipe Scolari, CT del Brasile, per te è una notizia bella, bellissima, normale? Bellissima, perché lui ha già vinto il mondiale, ha già esperienza, è come se vince, è quello per il Brasile, nel 2014 sarà importante una persona con questa esperienza, è una notizia bella non solo per me, ma anche per il tipo di brasiliano. Bene, grazie.